Il georadar ha già individuato alcune aree sospette tra i Serni e Venafro. Si parla di rifiuti metallici interrati, ma per capire davvero di cosa si tratti sarà necessario passare alla fase 2, ossia scavare. Si comincerà molto presto. Lo ha lasciato intendere il procuratore capo di Serni a Paolo Albano, ma per ovvie ragioni ha preferito non sbilanciarsi più di tanto. Sì, però non posso dire niente né dove, né come, né quando. In tempi ragionevoli si dovrebbe dunque sapere se quelli seppelliti in Molise siano i rifiuti tossici della Camorra oppure scarti industriali, comunque dannosi. Certo è che negli ultimi tempi le indagini sui reati ambientali hanno subito una decisa accelerata. Per quanto riguarda i reati strettamente di natura ambientale, per i quali stiamo procedendo come procura di Sernia, posso dire che effettivamente i risultati fino adesso sono stati raccolti molto velocemente. Quindi c'è stata un'accelerazione nelle indagini, tant'è che il dottor Marchetti dell'Istituto di Geofisica di Roma si è complimentato sia con il Comitato sia con la Procura per la particolare velocità nell'acquisizione dei primi elementi utili in queste indagini. Le dichiarazioni del magistrato sono state raccolte a margine di un convegno organizzato a Sernia dall'Associazione dei Cittadini contro le mafie e la corruzione, un incontro voluto per scuotere le coscienze. Il ruolo dei cittadini è quello di tenere alta la guardia, come si suol dire. Cioè sapere che l'azione della magistratura e delle forze di polizia, anche qui in Molise, è un'azione costante ma che da sola non basta. Ha detto che da sola non basta, cioè non basta perché? Perché se i cittadini ritengono che come padri di famiglia, come lavoratori, come il dominus di questo territorio, possano delegare la loro sicurezza, sbagliano perché c'è bisogno che in primis controllino il proprio territorio. La magistratura è stata, secondo me, la prima cosa da notare che è stata molto tempestiva nell'aprire le indagini, quindi sia per quanto riguarda la procura di Sernia che la DDA di Campobasso e ci auguriamo insomma a loro il migliore dei lavori possibili, il più fruttuoso dei lavori. Ovviamente non possiamo entrare nel merito di sindacare il loro operato, non ci permettiamo, il nostro compito è quello di stare come associazione vicino ai cittadini, ci fidiamo comunque di loro.